Covid-19 Sicilia, 471 nuovi positivi e 370 guariti tra le vittime, Siracusa 98 casi. Sono 471 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.651 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 308, l'incidenza sale al 3,7%, ieri era al 2,3. L'isola è al quinto posto per contagio, al primo c'è la Campania con 654 casi, al secondo Lazio 583, al terzo Veneto con 523 e al quarto la Lombardia 510 casi. Gli attuali positivi sono 7.142 con un aumento di 98 casi. I guariti sono 370, mentre si registrano altre tre vittime che portano il totale dei decessi a 7.012. Sul fronte ospedaliero sono adesso 321 i ricoverati, 3 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 36, 2 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo 69 casi, Catania 170, Messina 59, Siracusa 98, Ragusa 1, Trapani 24, Caltanissetta 18, Agrigento 25, Enna 6. Grazie a tutti.